Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta e bentornati alla scoperta del Veneto, delle sue meraviglie. Nei mesi autunnali, infatti, una delle principali conseguenze di situazioni bariche, come quella attuale, è la formazione delle nebbie. Questa è la nebbia di Meolo. Benvenuti a Meolo. Questa è la strada per la strada piccola. Chi lo sa dove ci porterà? Dove ci porteranno, sai? Fare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Ma guardate che Z ha detto! Shhh! Shhh! Pazzesco! Questa casa non esisteva prima. È la nebbia che la crea. È come giocare a un gioco in guerra. Cioè, sei mi urgo che ci stanno creando cielo e non dobbiamo entrare per la mia... C'è qualcuno che ci sta seguendo. Ci fai l'up in G? C'è qualcuno che ci segue. Non sappiamo chi sia. Ci sta superando, guardiamolo, 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 guardiamolo. È Martino! Abbiamo scoperto chi è Saverio e Martino. Sparisce Saverio, sparisce, sparisce. Capite che andiamo verso l'estate? Eh già. Dissero che c'era la nebbia, non avrei mai immaginato una nebbia del genere. Eppure? Questo è il tempo ideale per far volare dei drogni. Eh sì. All'ultimo vedi le cose per riscansarli. Un livello di ansia. Ansia. Minchia. Vedete come non si vede una mazza. Pazzesco. Vediamo anche di qua. Big Rock dovrebbe essere là. È più o meno in direzione là. Antoine dice che è lì. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati allo svincolo per Big Rock. È uscita un'altra macchina, è apparsa da nulla anche questa. Ecco qua ragazzi adesso. Questa è la sintesi del vivere a Meolo. Big Rock, questa è una bellissima cosa. Non c'è vita. Adesso appare una bambina in fondo e ci ammazzerà tutti. Pazzesco ragazzi. Proprio nel nulla. Averio è qui. È qui davanti a noi. L'abbiamo trovato. Per gli studenti. E questa è la scritta in Big Rock con la nebbia dietro ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione perché la situazione potrebbe non cambiare nel corso del prossimo fine settimana. Naturalmente noi deilmeteo.it vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla circolazione stradale.